Due tir che si incrociano al passaggio a livello, in un punto particolarmente stretto, gli autisti che non si accorgono che nel frattempo il semaforo è diventato rosso e le sbarre si stanno abbassando. Uno solo riesce a passare, l'altro, un auto articolato con targa lettone, rimane incastrato con il muso quasi sulle rotaie. E' accaduto questa mattina intorno alle 10 al passaggio a livello di Pieve San Paolo sulla via di Tiglio. Una telefonata al 113 ha allertato la polizia ferroviaria che ha provveduto a bloccare immediatamente il traffico da e per la stazione di Lucca, sul posto anche personale di RFI e una pattuglia della polizia municipale di Capandoli. Peccato però che quando arrivano l'altro camio se ne sia già andato. I tecnici impiegano più di un'ora per liberare la carreggiata. Quattro treni, due in direzione Lucca e due verso Firenze, hanno subito ritardi tra i 30 e i 50 minuti. Disagi anche per gli automobilisti, sia per chi a quell'ora percorreva la via di Tiglio, sia per chi si trovava sulla via di Santa Margherita, perché anche le sbarre di quel passaggio a livello sono rimaste abbassate per circa un'ora. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle 11.10. Scatta così la polemica dei residenti della zona che denunciano una situazione ormai diventata insostenibile. Tanti problemi, troppi quelli che ancora non hanno trovato soluzione, sebbene qualcuno racconti di aver già fatto presente la questione al vice sindaco di Capandoli, Luca Menesini. Un inferno costituito da pericoli, smog, incidenti e disagi a cui i cittadini ora dicono basta. A preoccupare maggiormente è la mancanza di una protezione che separi la ferrovia dalle abitazioni. Basterebbe davvero poco perché finisse in tragedia il gioco di quei due bambini che vivono di fronte. Sfuggendo ai genitori, infatti, potrebbero facilmente raggiungere le rotaie, anche con il treno in corsa. La siepe, piantata a spese dei residenti dopo la morte di un cagnolino, è stata rimossa da qualcuno e ora gli abitanti chiedono l'intervento dell'amministrazione. Una paura alimentata dai problemi di scherza manutenzione delle rotaie che riscontrano ogni giorno. Quando hanno rifatto tutto, sostituito le traversine di legno, hanno messo di cemento e tutte belle, rinforzato tutto. Queste qui, da lì a là, sono sempre quelle che ci passava il treno a vapore di un secolo fa. E sono tutte messe su buloni così. E qui specialmente, se si vede lì, sono già venuti diverse volte allentati. A tutti gli altri passaggi a livello hanno fatto il pezzo con la pedana che non si sente neanche il rumore da noi che si sta qui vicino. Lì l'altro giorno sono dei liti cacci e sono venuti a mettere, come si dice, un po' di catrame, tanto per metterlo. Ma qui, il pezzo di lì, come hanno fatto i passaggi a livelli là, prima, e quelli là dopo, a San Filippo, c'è la pedana anti-rumore e anti-vibrazione. E qui, quando passa il treno, se state attenti, qui si dimena tutto. Il fatto poi che molti degli automobilisti e dei camionisti non rispettino la linea di stop di fronte al passaggio a livello fa sì che, con difficoltà, chi vive nelle case adiacenti alla ferrovia riesca a dimmettersi in strada, provocando un rallentamento del traffico. Inoltre, la grande quantità di smog prodotto da chi non spegne il motore è un altro dei punti evidenziati da un gruppo di residenti, che chiede a gran voce controlli più stringenti. Praticamente la gente non rispetta la distanza regolamentare rispetto alle sbarre. Quindi le macchine arrivano direttamente, proprio, praticamente sotto le sbarre. Quindi quando si apre, specialmente il passaggio a livello, che succede? Se ci sono le macchine, problemi grossomodo non ci sono. Il problema sorge quando ci sono i grossi camion e l'arrivo della circolare. Questo fatto crea, chiaramente, un blocco della circolazione stradale, manovre indietro, manovre in avanti, molto lentamente. E quindi siccome il treno passa, le sbarre si chiudono e quindi il camion, molte volte i camion non fanno a tempo a passare, di modo che parte semplicemente una sbarra o del passaggio a livello. Questo è uno dei più grossi problemi che si verificano.